Ci è stato donato dal cielo e Luca lo poso nelle mani del presidente Time Farm il primo panino onto di Gods of Men. Luca ma che bontà! Si sente un profumino veramente super top! Prodotti tipici e vogliamo valorizzare il nostro territorio con dei prodotti che nel bellunese sono il top dei top. Prodotti tipici di che tipo? Vuoi citarci qualche nome? Pastin, formaggio alla piastra, panetto onto. Quindi assolutamente dovete venire a Gods of Men per assaggiare il panino onto. Michele ha già quasi finito, te lo sei sbranato, era buono? Spettacolare! Allora dai invidiamoli tutti, 23, 24 e 25 di giugno, quarto weekend del mese, vietato mancare! Grazie!